Ben cinque interrogazioni sono state depositate dai consiglieri comunali del Partito Democratico, Vincenzo Cirignotta, Salvatore Gallo, Carmelo Orlando e Romina Morselli. Gli argomenti dei documenti riguardano certo tematiche di rilievo che hanno investito l'intera comunità cittadina, ovvero la viabilità del lungomare Federico II, la riqualificazione di una seconda parte di esso, l'impiego dei lavoratori beneficiari dell'assegno civico, il potenziamento dell'organico dei vigili urbani nel periodo estivo e del parco mezzi messi i notificatori. Chiediamo all'amministrazione comunale di accelerare l'iter per la definizione del progetto esecutivo. Il lungomare è diventato ormai un'attrattiva non solo per i residenti ma anche per i cittadini dei comuni limitrofi, quindi chiediamo, ma lo chiede la città, i residenti, i titolari di attività commerciale, chiediamo che la riqualificazione si stenda al tratto di lungomare che va dalla capitaneria di Porto fino al locale della radioterapia. Visto le condizioni pessime della città per quanto riguarda la polizia, anche le erbacce che insistono su marcia ai piedi nelle strade e chiediamo al signor sindaco in questa interrogazione di utilizzare i lavoratori dell'assegno civico, i cui quantieri partiranno a breve, proprio in questo settore, in questa tematica. Peraltro i lavori dureranno circa tre mesi? Quando pare, così come annunciato anche dall'assessore Abela, è una cosa condivisibile e ci sarà anche l'allargamento della graduatoria, quindi aumenterà il numero dei beneficiari che saranno utilizzati in questa attività. Per rendere insomma più decorosa la città? Sì, in questo momento veramente chi viene da fuori, ma non solo i concittadini, la città è sporca in tutti i suoi quartieri, per non parlare di manfria. Con tutti questi campi di marcia, sensi direzioni, sensi unici, ZTL, è chiaro che un incremento della dotazione dei vigili urbani è necessaria e noi chiediamo che vengano dotati di bici, così come avviene tutte le città moderne. I vigili urbani dovrebbero controllare il corso, il lungomare, dove noi come Partito Democratico siamo a controllare il senso unico, ma noi pensiamo al lungomare con un'area pedonale. Quando avranno luogo queste cinque interrogazioni? Nella seduta del question time del 2 agosto.